Benvenuti e salve! Benvenuti a una nuova puntata di Cose a caso. Fin dall'antichità, ma soprattutto dall'asilo, diciamo, il bambino viene messo di fronte all'utilizzo di diversi colori per esprimere le proprie sensazioni. I colori sono tutti belli, i colori vanno bene per tutti, non c'è il colore per il maschietto e il colore per la femminuccia, anche se qualcuno avrebbe da dire, però, cioè, rosa è colore, no? I colori sono delle robe che vanno da un colore più scuro a un colore più chiaro con cui si possono disegnare, cioè, dalle robe più scure alle robe più chiare. Partendo dal bianco, che non è un colore, però li include tutti, al nero, che è un colore che... cioè, no, ho sbagliato. E partendo dal bianco, che non è nessun colore, mentre il nero li include tutti. E il nero è uno dei più interessanti come colori, soprattutto perché... cioè, questo è tipo marrone, vabbè. Perché è, per esempio, simbolo del malessere, del male, il scuro, il buio, il babao, straniero anche. Però è anche il colore politico di gente che ce l'ha con i stranieri, per cui io credo che abbiano dei problemi, cioè, no? Cioè, il nero che odia i neri. E' strano. Beh, qualsiasi maezza delle elementari, di fatti, si stupirebbe, si allarmerebbe, se un bambino facesse un disegno tutto quanto dipinto di nero, dicendo, è l'autostrada. Poi magari lo mandano a chi l'ha visto per vedere, non so, magari è morto qualcuno, cioè, no, nella famiglia. Purtroppo, nell'età adultera, si perde il contatto col gioco, col colore, con la libertà di poter esprimere i propri sentimenti. Sappiamo, ad esempio, che molti colori sono associati a delle sensazioni, a degli status d'animus. Il giallo potrebbe rappresentare la follia, la pazzerello, il rosa, il LGBT, il marrone, magari la vita e la legna dei campi, il verde, la lega nord, l'arancione, il mercato dell'edilizia, il rosso, la passione, un bel spritz campari. E avanti così, ecco. Sigla. 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 Grazie a tutti